Siamo appena arrivati a Lucca, c'è un tempo di merda purtroppo, però c'è una bellissima Keyblade qua dietro Quindi ci vediamo subito domani in cosplay qua con una bella giornata perché adesso veramente è buio e tardi, siamo stanchi e si va a mangiare Prima giornata di Lucca Comics, stiamo raggiungendo gli amici, godiamoci questa grande avventura Ciao 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 Siamo stanchi e morti, distrutti Per fortuna oggi era una bella giornata, speriamo anche domani ci sia il sole Secondo giorno a Lucca, sta piovendo, che palle Per fortuna oggi era una bella giornata, speriamo anche domani ci sia il sole Per fortuna oggi era una bella giornata, speriamo di condividere In complete quando ci ripete il solipide? Per fortuna oggi è comunque un'area Yupi intenzia e insieme a questi movimenti Per fortuna raggiungendo la dismant il sole è uscito, siamo tutti contenti anche perché ho comprato una bellissima cosa ho preso questa bellissima action figure di Roxas spettacolare nel mezzo, nel cammino di nostra vita tanto metto la musica però ridi ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi va che zucchina egocentrica mamma mia è allicinante, io non ho parole dai guardiamo noi la stessa una cosa più trash di così non se ne vedono tutti i giorni Leandro, Tatier e Tapienz addirittura all'interno della custodia dieci tracce, tutte in napoletano la Tatier e Tapienz che sarebbe il nome dell'album tra l'altro non sembra lui la notella trasformazione che ha fatto negli anni poi abbiamo il suo numero pronto Leandro, tipo pronto pizza pizza a domicilio procediamo con l'unboxing di questo CD scassato ovviamente in particolare tutta la mia famigla, manca una I non capisco questi tre trattini questi apostrofi voleva fare punti esclamativi ma non aveva award 2010 e quindi è venuto così apriamo abbiamo la sua foto di qualità superiore ovviamente la foto migliore la mette dietro che ti fissa ragazzi ho comprato il suo CD Luca è finita stiamo andando a casa a dormire perché siamo stanchi morti e ci rimarrà il bellissimo ricordo per tutta la vita e vorrei concludere il video con questo bellissimo panorama qui è tutto buonanotte 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 buonanotte